Dammi Yuuu No, io Fasano Se me la spacci Tu entri nel senso che lo vedi perché Continuiamo a fare i vlog in giro A Fasano Non si si vede preso al nero Non si dice con la G Facciamo i paparazzi Il mio videomaker è lui Ma che c***o urli Possiamo fare interviste Possiamo fare interviste Cosa vuole dirci Questa giornata magnifica Qui nella piazza di Fasano Non essere intervistata A posto Cosa pensate della piazza di Fasano L'unica cosa bella che sta a fare Non è originale Che ridere Bambina Merda Ragazzi Il canale 5 Siamo in diretta su Barbara D'Urso Allora Barbara Diamo linea allo studio Ma c'è un letto Allora ragazzi vi aspetto a tutti Tutti L'Urredì ha anche visto C'è un gruppetto bello vero Gruppetto Lei sta in diretta qua su canale 5 da Barbara D'Urso Buon pomeriggio tutto A Barbara ci troviamo con Dennis Un applauso Cosa pensa di Fasano Un bel posto veramente Vuole dare un saluto a Barbara D'Urso Un saluto a D'Urso Ci siamo qui con Catti Dovrebbe essere leggermente più estesa Perché Brava Allora ragazzi Però servono le luci Le luci ragazzi Mi sento Cazzo Tu mi fai calare stasera Tu mi fai calare stasera Non mi fai calare Non mi fai calare Oh te la spacco con la telecamera Sbacca 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 Che intervista Che intervista Sbacca Andiamo a intervistare un po' di postura Allora Sbacca Non si vede un cazzo Sbacca Sbacca Nato a Il Sto pensando Sbacca Sbiccia Sbacca Piacon Sbacca 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 ники Sbacca Con Sbacca